La gestione del bilancio degli enti locali è disciplinata dal Tuel, il Decreto Legislativo 267 del 2000, nel rispetto del buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione su cui si fonda il principio della competenza finanziaria potenziata, che è stato introdotto dal processo di armonizzazione contabile avviato nel 2009 e concluito nel Decreto Legislativo 118 del 2011, il cui obiettivo è stato quello di rafforzare l'intero ciclo di programmazione attraverso l'introduzione di nuovi schemi di bilancio omogenei volti a migliorare la trasparenza, l'attendibilità e la comparabilità delle scritture contabili di tutte le pubbliche amministrazioni. Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, le entrate e le spese vengono registrate quando sorgono, ma imputate le scritture contabili nelle quali vengono a scadenza. Questo per evitare accertamenti di entrate future e imputazione di spese inesistenti, per garantire gli equilibri di bilancio, equilibri che vanno costantemente monitorati con periodicità stabilita nel regolamento di contabilità dell'ente o comunque almeno una volta entro il 31 luglio. Il consiglio con propria delibera verifica e conferma gli equilibri o in caso contrario deve adottare tutta una serie di provvedimenti volti proprio a ripristinare gli equilibri, come ad esempio l'adeguamento del fondo crediti di dubbio e esigibilità o appunto la copertura dei debiti fuori bilancio. Questi sono dei debiti che non erano stati previsti nel bilancio, quindi non hanno seguito l'iter disciplinato dalla normativa vigente per appunto l'imputazione di una spesa nel bilancio, ma sorgono improvvisamente durante la gestione e quindi in particolar modo l'articolo 194 del Tuel stabilisce quali sono i casi che il consiglio può riconoscere o meno perché sono disciplinati dalla legge. E sono ad esempio le sentenze esecutive, pensiamo ad esempio a dei contenziosi che sono durati degli anni e che giungono al termine con il quale il giudice impone, stabilisce che l'ente debba risarcire il danno, oppure nel caso di ricapitalizzazione delle società in house, cioè quelle società nelle quali l'ente apporta il capitale e alle quali affida determinati servizi come i trasporti, le pulizie eccetera, oppure nel caso di copertura di disavanzi di altri enti, istituzioni, nei limiti però stabiliti nelle convenzioni e nello statuto, oppure ancora nel caso di spese per procedure spropriative o acquisto di beni e servizi che si rendono necessarie affinché sia aumentata la produttività dell'ente. Quindi questi debiti possono essere approvati o meno dal consiglio. Se il consiglio decide di riconoscerli, adotta tutti quei provvedimenti volti proprio a ripristinare gli equilibri attraverso la loro copertura. Ad esempio può decidere di utilizzare tutte le entrate per l'anno in corso e per i due anni successivi, tranne le entrate che hanno una destinazione stabilita per legge, per quelle che provengono dall'assunzione di crediti e per quelle che provengono dall'inazione di beni patrimoniali disponibili. Oppure può, l'ente per coprire i debiti, prevedere un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari o ancora può ricorrere a un mutuo passivo. Nel caso in cui invece l'ente decida di non riconoscere tali debiti, non può essere chiamato a rispondere appunto della loro copertura, ma viene chiamato a rispondere il dipendente, il funzionario, l'amministratore che ha provocato il debito. Quindi il creditore può rifarsi sul suo patrimonio, ma contemporaneamente può rifarsi sul patrimonio dell'ente se il patrimonio del debitore non è sufficiente a coprire il debito o se l'ente, nonostante non sia direttamente responsabile, abbia ottenuto un arricchimento dall'evento. E in questo caso viene chiamato a risarcire il danno in relazione proprio a questa parte di arricchimento. Può capitare poi che ci siano dei ritardi nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Per delle cause molto varie, una tra tutte, magari è che nonostante la convocazione non si raggiunga il numero di legale in consiglio per la deliberazione. E la Corte dei Conti, nel caso però solo di debiti legati a provvedimenti esecutivi, quindi provvedimenti giudiziari per i quali non si può ricorrere in impugnazione, quindi è scontato che l'ente debba essere chiamato a risarcire il danno, quindi a coprire il debito, in questi casi è possibile effettuare un pagamento anticipato del debito, che però questo non esclude l'obbligo per il Consiglio di procedere alla deliberazione appunto per il riconoscimento del debito. Il Consiglio inoltre può decidere in sede di deliberazione del bilancio di accantonare una quota, quindi delle risorse proprio a garanzia per la copertura proprio di questi eventuali debiti che potrebbero sorgere durante il corso dell'esercizio.